Allora, 5 minuti con OpenSims su Ubuntu vedremo adesso come fare a installare un'installazione tra le più famose, equivalente per molti versi a quella che ho fatto vedere su Windows. Questa è la famosa Diva Distribution Metaverse.ink, Metaverse.ink eccetera, si scarica da qua. Però noi lavoriamo proprio su una nostra io ho creato una macchina virtuale, questa qui mi sono collegato, è vergine, è un server non c'è nulla dentro. Cosa devo fare per fare in modo tale da lavorarci su questa macchina? Devo instalarci una sequenza di sudo apt-get install eccetera eccetera. Però prima di tutto dobbiamo ricordarsi di fare sudo apt-get non install ma update, dobbiamo fare l'update ok? E poi facciamo sempre un sudo apt-get upgrade queste sono le primissime due cose da fare. Vedete è un po' lunga questa fa responsabile di buona parte dei minuti necessari ecco come avete visto partendo da un Ubuntu 12.04 facendo l'upgrade c'è impiegato i suoi circa 10 minuti ad arrivare a una versione da cui partire se non si fa questa operazione di update upgrade le operazioni successive falliscono ora a partire da questo momento cominciamo veramente a mettere le prerequisiti veri per OpenSIM OpenSIM usa un prodotto che si chiama Mono quindi dobbiamo caricarlo sudo apt-get install mono complete vediamo se me lo ricordo giusto complete come vedete sono 200 MB di roba quindi anche qui vedrete che dovremmo avere un po' di pazienza che ci installa tutta questa roba qui quindi Mono complete ecco voi ecco come vedete abbiamo perso altri 10 minuti preziosissimi della nostra esistenza nel fare questa noiosissima aspettare e da qui nasce il fatto che in tutti i manuali si dice lanciate sudo apt-get qualcosa e poi andate a fumarvi chi fuma oppure prendete una birra leggete il giornale insomma fate quello che volete sono tutte queste cose quindi riassommiamo abbiamo fatto update upgrade e poi install mono complete cosa manca all'appello per far funzionare ancora il nostro OpenSIM bisogna installare MySQL quindi dobbiamo fare sudo apt-get install MySQL server e in questo momento dovrebbe essere 5.5 che è quello che c'è adesso quindi MySQL server 5.5 adesso vedrete che è leggermente più veloce di prima ma comunque prenderà anche lui il suo tempo su 90 MB anche questo signore qua ecco qui adesso ci chiede la password per il database user root che è il principale ne metto una la ripeto questa è l'unica interattività dell'installazione di MySQL server dopodiché lui finisce ok quindi abbiamo fatto anche l'installazione di MySQL server installiamo a questo punto più che altro per utilità e per rendere umano phpMyAdmin che è un prodotto che installa epaci insomma tutto php eccetera che ci permette di gestire in maniera umana il MySQL quindi phpMyAdmin lo installiamo più piccoletto di prima ma ci impiegherà un attimuccio ok qui chiede soltanto conferma lo installiamo come epaci 2 tab invio ok usiamo il default quanto più possibile e qui mettiamo la stessa database che abbiamo messo la password che abbiamo messo prima la confermiamo ok qui lo faccio per semplicità usiamo sempre la stessa password fatto a questo punto abbiamo quasi tutto per cominciare prima di installare il OpenSync dobbiamo però configurare un database adeguato quindi ci colleghiamo al MySQL allora qui è come se fosse una LAN perché ho fatto una macchina virtuale vediamo un po' qual è l'indirizzo di collegamento questa ok quindi se qui a questo punto andiamo su quell'indirizzo phpMyAdmin quindi ci sono collegato una macchina Windows ora stringiamo un secondo ok perfetto e ci colleghiamo alla nostra macchina root con la password che abbiamo messo prima vedete che qui ci sono dei database di base e dobbiamo costruire un database nuovo che si chiama OpenSIM qui la tecnica più semplice per costruire un database è in realtà cliccare su privileges cioè per costruire un utente quindi creiamo un nuovo utente lo chiamiamo OpenSIM qui gli diciamo che l'accesso per semplificare è local la password mettiamo ancora ad esempio OpenSIM OpenSIM questo lo faccio per semplicità l'utente una volta creato diciamo che viene anche creato un database che si chiama uguale queste sono delle scelte voi potete usare anche delle cose diverse a seconda di cosa usate poi dovete cambiare alcune cose dopo ma per il momento io direi che questa è la cosa più semplice creiamo l'utente crea l'utente ma crea anche soprattutto il nuovo database chissà se ce la faremo vedere eccolo qua OpenSIM vuoto allora una volta che è stato creato il nostro database la cosa successiva sarà quella di scaricare abbiamo visto il nostro questo qua download di Diva quindi a questo punto scarichiamo veramente OpenSIM quindi facciamo copy link address da qua e andiamo sulla nostra macchinina anzi no qui che siamo collegati qua e facciamo un bel vget con l'indirizzo questo qui da qui l'abbiamo creato quindi qua ci scarichiamo questi che sono mi sembra 33 megabyte 32 megabyte che sono la distribuzione di Diva quindi qui dovremmo aspettare un attimino ok l'abbiamo scaricato è venuto fuori un file con un nome molto strano dobbiamo fare l'unzip quindi noi siamo sul nostro direttorio nostra cartella di utente unzip e poi facciamo questo vedete unzip non c'è quindi facciamo sudo apt get install unzip questo piccoletto arriva subito e poi riproviamo unzip di questo quindi abbiamo unzippato finalmente abbiamo la nostra parte quindi adesso per eseguirlo dobbiamo fare sotto cd Diva questa versione qui siamo sulla 076 e qui andiamo qui ci sono le istruzioni anche ma noi le saltiamo perché le conosco già un po' memoria o almeno le parti più importanti ls facciamo ls.exe vedete che ci sono vari programmucci ma la cosa che ci interessa di più in questo momento è lanciare con mono che ricordate che abbiamo installato prima configure.exe perché gli dobbiamo dire sostanzialmente un po' di cose fra cui il database che abbiamo creato in MySQL prima quindi facciamo ok come lo chiamiamo il nostro mondo lo chiamiamo pippo potete chiamarlo come volete allora MySQL database host gli mettiamo localhost che è il computer questo ubuntu localhost è quello locale su cui abbiamo installato MySQL come si chiama il database l'abbiamo chiamato OpenSim vi ricordate che abbiamo fatto un utente che si chiamava OpenSim e gli abbiamo detto di creare un database con lo stesso nome OpenSim l'user account era OpenSim appunto e la password che dobbiamo scriverla effettivamente in questo caso gli ho scritto proprio uguale quindi sono tutte tre uguali voi potete ovviamente usare cose diverse ecco qua interviene l'indirizzo allora l'indirizzo è come questa macchina viene riconosciuta sulla LAN se è locale oppure a livello esterno possiamo usare lo stesso indirizzo con cui ci eravamo collegati remotamente mettendoci l'indirizzo giusto ci consente di accederci a interLAN quindi diventa veramente utilizzabile quindi a questo punto gli mettiamo l'indirizzo IP quindi questa parte qua che avevamo ottenuto ce la faremo mai 192 163 130 130 quindi facciamo monoconfigure.exe pippo localhost open sim open sim open sim IP address 192 168 133 130 l'importante è che sia giusto che sia il modo in cui viene riconosciuto questa macchina all'interno della LAN ok quindi diciamo che siamo sotto unix siamo in realtà ubuntu qui possiamo dare invio wifi admin first name wifi quindi wifi admin sarà qui l'amministratore di questa istanza di open sim e la sua parola chiave è secret poi vabbè mettiamolo a tutta gli mettiamo controllo quindi default gmail username non gli mettiamo niente ok perfetto allora a questo punto abbiamo definito praticamente le principali cose come notate risponde sulla porta 9000 però adesso dobbiamo lanciare effettivamente il nostro il nostro simulatore quindi facciamo mono open sim punto exe mono open sim punto exe quindi vedete che è riconosciuto il database se no avrebbe dato una montagna di errori si sta caricando tutti i dati fondamentali ok a questo punto sta creando quattro regioni suppongo e qui diamo che appartiene a my estate quindi dato un invio ecco qui creiamo l'utente l'avatar principello chiamo test user che è il default e poi come passo gli mettiamo ancora test ok email non ce l'importa userd va benissimo quella qui diamo yes cioè default default yes questo ce la chiedendo per tutte le quattro sim di cui è composto ok e a questo punto vedete che lui è partito quindi questa è la nostra effettivamente la nostra cosa allora come facciamo a collegarci a questo punto remotamente quindi entriamo ad esempio sulla macchina windows e gli creiamo e ci lanciamo il nostro amico imprudence ricordate che prima con la distribuzione di che abbiamo fatto prima dobbiamo collegarsi su un localhost allora ok invece adesso dobbiamo andare su grid manager e diciamo di collegarci vedete sul 192 168 133 130 2.9000 gli mettiamo pippo get grid info vedete che non ha protestato ok quindi ha generato una grid che si chiama pippo e vedete che qui si è collegata quindi word word pippo eccetera test user test ci colleghiamo vedete che man mano che ci colleghiamo in realtà qui succede qualcosa cioè sulla console è comparso qualche cosa la prima volta c'è questo errorino ma fondamentalmente siamo dentro il nostro mondo virtuale siamo collegati tra l'altro ad una macchina diversa in LAN non c'è la marmitta insomma la pentola con i soldini come c'era su windows però vedete che possiamo creare creiamo uno primitive possiamo crearci uno script vedete che funziona e poi tanto per essere certi facciamo ancora un gruppo quindi facciamo un gruppo creiamo un gruppo nuovo gruppo qui gli possiamo mettere faremo scattare una foto vediamo se funziona abbiamo scattato una foto elementi recenti foto album snapshot lo mettiamo come foto del gruppo statuto del gruppo mio e poi e poi qui abbiamo adesso qui ampli un po' pochino piccolo comunque ok l'estesimo da poter premere il testino ok ok quindi abbiamo introdotto e costruito il gruppo e a questo punto possiamo anche mandare sul gruppo quindi groups nuovo gruppo questo possiamo mandare una notice crea una nuova notice 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 e la notice possiamo anche aggiungere la notice eccolo qua un attachment eccolo qua invia la notice e vedrete che ci compare effettivamente la notice col suo attachment che è una delle novità nuove insomma della 0.7.6 quindi vi ho fatto vedere come fare la stessa cosa che abbiamo fatto su windows però questa volta su buntu ci abbiamo impiegato parecchio di più diciamo che andando tranquilli ci vorrà un'oretta però questo sistema diciamo ufficiale raccomandato per l'installazione di open sim sui sistemi unix che sono quelli che si trovano nella realtà per poter fare delle installazioni di stand alone di open sim grid vi ringrazio arrivederci alla prossima 5 minuti con